Dopo lo stage del 2017, il grande successo del torneo estivo, l'associazione sportiva Sport Village presenta un'altra importantissima iniziativa a favore di tutti coloro che vogliono imparare i rudimenti del calcio. Sabato 8 settembre alle ore 18 allo stadio Pignatelli di San Martino Valle Caudina si presenta la scuola calcio targata Sport Village. Siamo con il segretario dell'associazione Marco Cerdillo al quale chiediamo innanzitutto il perché di questa scelta e da chi è composto lo staff tecnico. I motivi per i quali abbiamo scelto di creare, di far sì che questo progetto prendesse vita sono parecchi. I principali però sono state molte conoscenze che abbiamo intrapreso durante questi due anni di associazione sportiva. Primo tra tutti è l'aver conosciuto Renato Cioffi che calcisticamente è certamente una garanzia non solo in Campania ma penso in tutta Italia visto il curriculum. Noi conoscemmo Renato Cioffi e tutto lo staff dell'Avellino due anni fa quando intraprendemmo un piccolo progetto di una settimana dal 1 al 7 luglio 2017 dove raggruppammo un po' tutti i ragazzi della Valle Caudina, cercammo di abbracciare un po' tutta la Valle Caudina con questo stage calcistico. Questa esperienza fece sì che potremmo intraprendere, iniziamo a pensare un po' una realtà diversa, ben diversa, mai nata e non ancora esistente in Valle Caudina ossia un progetto unitario che non unisca e divida solamente i singoli paesi ma formi un'unità caudina. Il progetto per cui ci stiamo battendo da molto e per il quale è nato, ossia formare una scuola calcio targata Valle Caudina e non solo riconoscibile a San Martino Valle Caudina o a Cervinara o a Rotondi e a tutti i paesi, un po' come sono state e sono frammentate in tutta la Valle Caudina. Anche per questo avete scelto, a parte il responsabile tecnico che è il mister Renato Cioffio, avete scelto un po' i responsabili allenatori che arrivano un po' dappertutto, sono stati dei grandi calciatori. Oltre che questa scelta è stata mirata, è stata studiata logisticamente, visto che è considerato che lo staff tecnico che prenderà visione, prenderà parte gli allenamenti di questa scuola calcio e è formato da non solo gente di San Martino o di Cervinara ma anche da altri paesi della Valle Caudina, in modo tale da farci un'ottima propaganda e soprattutto abbiamo scelto lo staff in base al loro curriculum. Visto e considerato che la parola che precede calcio è scuola, noi ci basiamo proprio su alcuni concetti e principi che poi collegheranno le varie parole scuola e calcio. Diciamo subito a chi è rivolta, chi sono i ragazzi che si possono iscrivere, da che età a che età? Le fascite età che noi andremo a toccare saranno dai 5 anni fino ai 16 anni, ossia noi cercheremo di svolgere le attività calcistiche con tutte le categorie presenti in tutte le scuole calcio d'Italia. Ci stiamo muovendo benissimo per quanto riguarda la propaganda e la sponsorizzazione, vedo che stiamo comunque ottenendo molti consensi da parte soprattutto di genitori che sono un po' stufidi questo lasciare e tralasciare i bambini lì e non vedere nessun frutto perché la domanda è proprio questa che si porge un genitore. Io vado, porto mio figlio in qualsiasi struttura in pianto sportivo per vederlo migliorare, è un po' come una scuola. E noi ci stiamo basando un po', ci stiamo attenendo a questo tipo di filosofia. Non a caso abbiamo scelto persone che fanno questo caso. Appunto diciamo i nomi, oltre a Renato Cioffi? Oltre a Renato Cioffi ci faranno parte dello staff tecnico, il vostro pupillo appena firmato col Cervinare, Renato Ricci, ex Avellino, ex Inter, un curriculum che parla da sé. Verrà anche, mister Giovanni Esposito, una garanzia in Valle Caudina credo dal punto di vista calcistico e soprattutto un allenatore dei bambini che riesce a correlarsi con questi, cosa che è giusto che sia così perché ognuno nella vita deve fare quello che sa fare. Ed è questo un po' il nostro concetto base. Inoltre ci verrà, tramite le conoscenze, soprattutto grazie a Renato Cioffi, ci sta proiettando in realtà molto concrete calcisticamente che sta facendo conoscere molte persone calcisticamente affermate che verranno a darci una mano. Allora l'appuntamento è per sabato 18. Sabato ore 18, vi aspettiamo numerosi al campo, a chi è interessato e a chi meno. L'importante è che venite perché ci sarà anche un buffet. Grazie. Grazie.